Tu non lo devi alzare, tu devi abbassare sul suo bugger per dargli forza. Lui te lo deve ritare morbido. Stendi la braccia, le braccia stanno davanti al tuo petto, non tra la tua colpa e la tua schiena. Stai sul corpo e la tua schiena. Sì, ho capito, ma lì. Così. In avanti il peso. E' un po' di merda. Sto capire un po' schifo. Giocchia, condizioni norma dotata. E' uno scheradeo schiacciato in più di aria. Tu devi ammortizzare. In direzione della schiena, Matteo, se no ti ho cominciato a saltare. Quindi il tuo petto di ribalcio è questo. E' un'ottima sensazione, Matteo, bravo. Scambiatevi. E' un'ottima sensazione, Matteo, bravo. E' un'ottima sensazione, Matteo, bravo. Scambiatevi. Allora. Buon'alta. Tente verso il suettore di Chiodo in Valle. Andrei. Fermi. Tieni le braccia lì, questa è la schiena che voglia. La spalla è uguale, ma io faccio questo. 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 Grazie.